La prego, venga avanti. La prego, venga avanti. La prego, venga avanti. La prego, venga avanti. La parola d'ordine è per partecipare? Sì. Mi rincresce, io... Io... Temo di averla dimenticata. Questo è spiacevole, perché qui non ha importanza se uno l'ha dimenticata o non l'ha mai saputa. Gentilmente si tolga la maschera. Adesso si spogli. Cosa? Devo spogliarmi. Si tolga i vestiti. Mi dica... Per favore... Si tolga i vestiti. Preferisce che glieli togliamo noi. Basta! Lasciate che vada via. Prendete me. Io sono pronta a riscattarlo. Tu sei pronta a riscattarlo? Sì. Sei certa di sapere a cosa ti condurrà il tuo gesto? Sì. Sì. Molto bene. Lei è libero. Malavverto. Se cerca di indagare. Se dice in giro una sola parola su ciò che ha visto qui... Le conseguenze saranno terribili per lei e per la sua famiglia. Ha capito? Quindi... No. 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 Ma adesso che cosa accadrà a quella donna? Nulla ormai potrà cambiare il suo destino. Quando qualcuno qui ha preso un impegno non può più tornare indietro. Se ne vada! Grazie a tutti!